Christian Fruchtel, portiere del Lecce, nuovo portiere del Lecce, probabilmente di riserva, però insomma arriva dall'Austria-Vienna, è un portiere tedesco, quindi scuola tedesca, forte con i piedi, forte nelle uscite, tra l'altro ha anche un discreto parerigori, almeno nell'ultimo anno ne ha parati 3 su 8, quindi la media è sicuramente positiva. Non è il 50%, però insomma gliene mancava uno per avere il 50%, ed è un portiere reattivo che occupa molto bene la porta, perché comunque è alto, è abbastanza grosso, ma ha anche una bella apertura delle braccia, quindi anche in uscita è molto forte perché si piazza davanti e l'attaccante non sa quello che deve fare, perché vede comunque questo giocatore che sembra essere più grosso di quello che è come copertura, perché la copre veramente bene la porta. Quindi in realtà è un portiere che non sarebbe stato male anche da valutare come titolare, anche se viene comunque da due stagioni, in una squadra importante come l'Austria-Vienna in Austria, ha lottato per traguardi importanti, e adesso va in una squadra che comunque normalmente lotta per la salvezza, dove c'è però Falcone, che penso sarà ancora il titolare, però potrebbe essere anche un acquisto in prospettiva, portare come secondo, e poi durante l'anno può fargli fare qualche presenza, e poi l'anno prossimo farlo diventare il titolare del Lecce. E' chiaro che tutto questo va fatto con la cessione poi di Falcone e con la permanenza in Serie A, perché poi chiaramente portarlo magari in Serie B un giocatore di questo tipo potrebbe essere più difficile. Quindi devono avvirarsi queste condizioni, questo vuol dire che non va comprato e direi in generale di no, nel senso che comunque Falcone è uno dei migliori portieri, insomma tante volte ha salvato il Lecce, quindi non credo che, a meno che non arriverà un'offerta entro agosto, ma difficilmente, perché non vedo squadre che hanno così tante, diciamo hanno voglia di puntare su un portiere, squadre comunque di livello un po' superiore al Lecce, e quindi probabilmente Falcone, a meno che non dovesse andare all'estero, resterà a Lecce, quindi resterà come titolare. Però Fruchtel è un portiere davvero interessante. Io ho visto fare anche delle parate molto importanti, proprio con velocità, anche molto forte, come diciamo prima, nelle respinte, quindi un portiere abbastanza completo, che secondo me può ambire a fare il titolare in generale, però appunto come hai detto le gerarchie sono abbastanza consolidate, ma è un portiere da tenere d'occhio, insomma, se magari, questo mi fa pensare comunque alla coppia del Lecce, che anche difensivamente non è proprio negativa, non è la peggiore, può essere interessante, perché magari un infortunio, non glielo auguriamo, ma insomma di Falcone, avrebbe comunque un secondo importante, mentre magari non c'era fiducia in Blepe, in Brancolini, o in Samoia, insomma, i Borbei, i portieri che poi sono stati secondi e terzi in tante occasioni, tra l'altro della primavera del Lecce, non davano forse garanzie, hanno preso veramente un portiere interessante, forse il miglior secondo portiere delle squadre di bassa classifica.